La Puglia cresce soprattutto in termini di flussi internazionali, non solo nei primi sei mesi dell'anno, ma anche durante il periodo estivo. È quanto emerso nel corso dell'edizione 2023 della TTG di Rimini, che ha chiuso i battenti nei giorni scorsi. I numeri dell'estate di luglio e agosto sono in linea con quelli dello scorso anno, con una piccola riduzione dei flussi nazionali, causata anche dall'inflazione dal carocarburante in Italia. L'obiettivo dei prossimi mesi è quello di proseguire il lavoro sugli aspetti qualitativi dell'offerta turistica. I dati non sono una medaglia per qualcuno, afferma Gianfranco Lopane, Assessore al Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica della Regione Puglia, ma servono a tirare le somme su quello che è stato fatto in questo anno e a capire quali sono le ulteriori azioni che accanto agli operatori della filiera turistica dovremo intraprendere da qui al prossimo futuro. Ci sarà l'organizzazione di tutte le altre fiere che faremo fino a fine anno, ritornerà il percorso di definizione del piano strategico che ci accompagnerà al 2030 e ci saranno ancora tutta una serie di attività da programmare per il prossimo anno e si spera che ci siano e stiamo lavorando su questo per cercare le risorse che ci consentano di fare questo.